E' con piacere che incontro nuovamente Matteo Stefanelli, che è un ricercatore dell'Università Cattolica di Milano, con una grande passione per il fumetto tra i media che incontra, e dopo aver parlato con lui approfonditamente del Corriere dei Piccoli, siamo a parlare del Corriere dei Ragazzi, che nacque come costola, avevamo detto, del Corriere dei Piccoli, giusto? Nel 72, in una fase in cui il Corriere dei Piccoli aveva bisogno un po' di cercare nuova linfa, cercare nuovo pubblico, nuove formule, nel 72 nasce l'idea di costruire una testata parallela, una specie vera di spin-off dedicata a un pubblico meno infantile, più adolescenziale, pre-adolescenziale. Il Corriere dei Ragazzi durò in realtà pochissimo tempo, durò 4-5 anni, eppure in quei 4-5 anni riuscì a costruire una rivista di tale ricchezza e vivacità, sia nella scelta dei fumetti, sia nella costruzione del giornale, che ancora oggi è ricordata un po' come uno dei vertici nella storia dei periodici italiani dedicati al fumetto. Tanti furono i personaggi presentati dal Corriere dei Ragazzi, come già era successo con il Corriere dei Piccoli, lo possiamo vedere in questo bellissimo libro curato da Gianni Bono e Alfredo Castelli, edito da Rizzoli, e anche in un'altra raccolta che eventualmente è possibile recuperare dall'edicolante di fiducia o sul sito del Corriere della Gazzetta, che fa parte della collana Cent'anni del fumetto, è incentrato proprio su quelli del Corriere dei Ragazzi, sui personaggi e gli autori, perché ci furono all'interno del Corriere dei Ragazzi molti autori che poi ebbero un successo sempre più crescente. Ad esempio, una delle colonne, l'abbiamo già citato, fu Alfredo Castelli, con i suoi personaggi, gli aristocratici famosissimi, che so lui stesso mi disse quando lo incontrai, che verrà presto riproposto in un'edizione di Coma 22. Per il momento è possibile ritrovarli in questo volume del Maestri del fumetto italiano, proposto di recente in vendita sulle 24 ore. E l'altro personaggio faceva parte di una rubrica divertentissima, Lomino Buffo, anche questo Alfredo ci ha sviscerato quando abbiamo incontrato la genesi di questo personaggio, che qui ritroviamo in una raccolta di conigli editore. Ma un altro grande personaggio, ad esempio, era l'indimenticabile Bonvi, che sul Corriere dei Ragazzi presentò Nick Carter, che è un passaggio un po' particolare, anche qui, come ho detto riguardo a Iacovitti, non si tratta solo di una parodia del genere giallo, ma ci va molto oltre il carattere e l'arte di questo autore, giusto? Nick Carter è davvero, tra i lavori di Bonvi, quello meno esplicitamente umoristico, nel senso che l'Estrutruppen, piuttosto che anche l'invenzione originaria di Cattivic, sono chiaramente dei fumetti destinati a gag, divertenti in ambientazioni diverse. Nick Carter è anche un gioco sui meccanismi del raccontare, di cui si prende gioco, perché Bonvi amava prendersi gioco delle persone e delle regole, incluse quelle del raccontare. Nick Carter diventa rapidissimamente una specie di testimonia, uno dei personaggi che nel Corriere dei Ragazzi svolge proprio la funzione di rappresentante, quasi come anche l'Umino Bufo, che caratterizza il giornale in alcune rubriche, rubriche sciocchine, stupidine, felici di essere stupidine, ovviamente. Ecco, Nick Carter, per chi volesse scoprirlo, c'è questo bellissimo cofanetto che raccoglie il DVD con gli animatic, le animazioni tratte da Super Gulpa e credo anche da altre trasmissioni televisive in cui aveva poi sconfinato e una raccolta invece in libro con le storie migliori. E visto che hai citato Stunutruppen e stiamo parlando di Bonvi, come non dire che di recente è uscita questa raccolta, una raccolta completa, Super Stunutruppen, anche questa come per Nick Carter, edita da Salani. Stunutruppen che è diventato un mito in tutto il mondo, mi risulta che abbia un notevole successo anche e soprattutto in Germania, nonostante si esprimano le Stunutruppen con questo tedesco maccheronico e si era una striscianti militarista che, vista l'epoca in cui è stata pubblicata, il riferimento più immediato era quello alle truppe d'assalto famose. Si divertono anche i tedeschi a leggere il tedesco storpiato un po' all'italiana. Comunque il punto straordinario è la satira delle piccole meschinità della guerra, dei soldati e su questo Bonvi era spietato e divertente. Bonvi aveva dato vita anche a Cattivic che era nato, se non sbaglio, come parodia dei cattivi con la K degli anni 60, quindi Diabolic, Criminal e così via, e che poi in realtà è diventata una striscia, una serie di storie autoconclusive estremamente divertenti, riprese poi da Silver e dal suo ricco team di autori, da Giacomo Michelon, Massimo Bonfatti e Giorgio Simacal, e che anche qui ritroviamo in questa riproposizione in un formato agile da Salani. Citavamo Silver perché giustamente rimaniamo su di lui perché sul Corriere dei Ragazzi nacque anche Lupo Alberto. Lupo Alberto è un personaggio, forse tra quelli che abbiamo citato, l'unico che ancora va avanti con una pubblicazione propria da Edicola, ha un successo incredibile in termini di merchandising e oggettistica varia e è un fumetto che sarebbe elutivo definire comico visto che anche quest'amore impossibile tra Lupo e Gallina rappresenta anche delle sfumature molto più... Quasi poetiche letterarie sicuramente, volendo c'è il gioco della grande narrativa popolare, piccoli frammenti con tante piccole variazioni che ovviamente alludono a tanto. La cosa però sicuramente straordinaria di Lupo Alberto è che rappresenta per il fumetto italiano un'invenzione di un modello industriale del fumetto italiano che sembra quasi più vicino alla Francia, cioè un fumetto che riesce a parlare a tanti pubblici diversi grazie al fatto che funziona anche con un licensing ben ragionato, un merchandising molto vario in fin dei conti è umoristico, quindi è un personaggio con cui giocare e perché non giocarci allora con effettivamente dei giochi, degli oggetti, molto vivace come storia quella di Lupo Alberto. Lupo Alberto come ha detto continua la sua vita editoriale in Edicola o se no in queste raccolte che è possibile trovare Edith Dabur Rizzoli e torniamo ben volentieri a parlare di Lupo Pratt perché sul Corriere dei Ragazzi veniva pubblicato questo personaggio che ora viene riproposto sempre da Rizzoli in questi bei libroni di pregio e che era il sergente Kirk che tra l'altro non è affatto solo da lui ma anche da un altro grande autore compianto che era Hector Osterel. Kirk rappresenta veramente un lavoro indispensabile da conoscere per chi vuole ricostruire la carriera di Ugo Pratt e soprattutto dell'Ugo Pratt giovane quando fa la storia del fumetto in due continenti perché Pratt viaggiatore nella vita e viaggiatore nel fumetto da giovane per un periodo molto importante vive e lavora in Argentina arrivando a collaborare con uno dei più straordinari sceneggiatori della storia del fumetto mondiale che è Osterel, uno dei grandi inventori della forma del fumetto popolare della costruzione delle pagine in un certo modo, dell'idea di avventura con certe caratteristiche di ritmo e anche con una visione umanista veramente rara nel fumetto popolare per come molti lo raccontano. Intanto che tu parlavi io mostravo quest'altro libro di Pratt, questa volta scritto da Mino Milani ci sembrava dover uscitarlo, in realtà ne abbiamo già parlato approfonditamente con Alfredo Castelli che ci ha parlato del suo ritrovamento e dell'importanza di questo ritrovamento quindi tutti i dettagli eventualmente potete ritrovarli nella intervista che abbiamo fatto a Castelli. Sandokan è detto in parolone poverissime e ha un'opera che era in preparazione ma poi la chiusura della testata a Corriere dei Ragazzi fece sempre un bene mai pubblicato. Grazie al fatto che Alfredo Castelli lo conservò tra portandovi le cose dalla redazione è stato possibile a distanza di anni ritrovarlo in questa lussosa veste anche qui da Rizzale Lisarda. Dolcesi in fundo, tanto per usare forse il latinismo più diffuso e più abusato in Italia ma ne vale la pena perché chiudiamo veramente in bellezza con Altai e Johnson che è forse il fumetto più, dicevamo prima, legato all'epoca in cui veniva pubblicato, gli anni 70. Verissimo, Altai e Johnson sono la versione umoristica, satirica e un po' cialtrona ma piena di ritmo e inventiva dei polizieschi degli anni 70 al cinema e televisione sono una coppia sgangheratissima di investigatori la cui vivacità è data tra l'altro da due fattori non solo lo sceneggiatore che è Tiziano Sclavi negli anni prima di inventare Dylan Dog con cui poi naturalmente ha raggiunto sicuramente una notorietà superiore ad Altai e Johnson ma anche dal segno che è l'altro grande ingrediente della fortuna di questo splendido noir parodistico che è il segno di Giorgio Cavazzano forse uno dei più dotati disegnatori del fumetto italiano degli ultimi 50 anni che in quel periodo si dedica al bianco e nero con questo poliziesco davvero pieno di nervosismo e insieme di ritmo divertito e divertente Sì, questa che abbiamo mostrato è la raccolta integrale delle opere, delle storie di Altai e Johnson sono pubblicate da Alta Fedeltà Io ti ringrazio Matteo Speriamo di aver offerto un quadro esaustivo di aver fatto venire la voglia di riscoprire queste opere che io per questioni anagrafiche ho avuto il piacere di assaporare all'epoca ma che hanno tuttora una grandissima vitalità, una grandissima attualità e quindi chi vorrà potrà trovarle in questi titoli che vi abbiamo presentato Grazie ancora Grazie, grazie